Che iniziativa avrà luogo sabato prossimo? Allora sabato prossimo abbiamo praticamente la presentazione ufficiale del nostro concorso letterario, il nostro primo concorso letterario dove ci sarà quindi la premiazione dei 40 partecipanti che hanno mandato i loro elaborati e che si vedranno quindi premiati con la stampa del libro stesso. Ecco, è un'edizione importante e voi siete sempre attivi su questo fronte, non è la prima iniziativa che fate? No, effettivamente cerchiamo di portare la nostra azienda all'esterno con l'intenzione comunque di comunicare i nostri servizi ma anche di fare quel minimo di mecenatismo di confronto delle arti, in questo caso quelle letterarie che comunque sono sempre meno considerate, specialmente con la vente del web e delle e-book noi sponsorizziamo la carta perché non c'è niente di meglio di un bel libro cartaceo.